Chiampo, una società di capitali del settore conciario, si è vista sequestrare beni per 163.000 euro dalla Guardia di Finanza di Vicenza. Il provvedimento si è reso necessario a seguito di un controllo dell'Agenzia delle Entrate, che aveva accertato che nonostante fossero dichiarate somme derivate dalla trattenuta dei dipendenti relativi al 2017, l'azienda non aveva ancora versato nulla nelle casse dell'erario entro i termini previsti. I finanzieri hanno quindi proceduto al sequestro di beni immobili e quote societarie per un importo equivalente. Hanno quindi posto i sigilli ad un'abitazione del valore di 120.000 euro di proprietà del legale rappresentante della società, un 58enne di Arzignano, sequestrandogli inoltre partecipazioni societarie del valore complessivo di 8.500 euro.